Il Ricordi hanno le gambe lunghe, Enzo, un libro edito da Ernesto Di Lorenzo, alcamese, che ha già dato alle stampe libri di scrittori famosi che hanno avuto e che continuano ad avere grande successo. Come nasce Il Ricordi hanno le gambe lunghe? Il Ricordi hanno le gambe lunghe nasce da una proposta dell'editore, il quale ci ha voluto inserire in questa bellissima collana che riguarda più che altro la conoscenza delle persone sotto forma anche di intervista. Per esempio Di Lorenzo è uscito come ben sai in questa collana con i bellissimi libri che riguardano l'intervista al senatore Corrao, poi c'era quella a Monsignor Respanti, a Buttitta e questa nostra iniziativa culturale fa parte di questa collana. Ora tutto nasceva appunto da una sorta di libro intervista, ci propose una sorta di scambio di idee fra me e Fabio. La cosa devo dire a Fabio Stassi che vive, ricordo, a Viterbo, non gli piacque molto e allora iniziò lui, iniziamo con uno scambio proprio pistolare di lettere e questa cosa non andava bene, devo dire la verità. Iniziò lui invece a mandarmi un racconto, un racconto di quando era bambino e dei suoi antenati e della nonna e io risposi con un altro racconto. Iniziò tutto così, proprio a raccontarci attraverso i racconti e devo dire che sono stati mesi davvero molto intensi e molto divertenti a raccontarci attraverso i racconti. Quanto c'è di autobiografico in questi racconti? Molto, molto, c'è molto di autobiografico anche se poi spaziamo nel mondo della fantasia così come può fare anche un bambino perché sono in realtà i nostri ricordi dei bambini. Certe volte i ricordi dei bambini si ingrandiscono e spaziano nella fantasia. La base è autobiografica ma poi spaziamo in maniera fantastica tra ricordi ed emozioni che ci colpirono quando eravamo bambini.